Buonasera, lo avete sentito nei titoli, rimane elevato in provincia d'Imperia il livello di attenzione per gli incendi boschivi. Visto quanto accaduto nelle ultime settimane, il territorio imperiese è stato giudicato quello a maggior rischio di tutta la regione e per questo è stato disposto il potenziamento ed il prolungamento della presenza dei volontari della protezione civile della Lombardia in zona che operano insieme alle squadre locali. Il punto sulla situazione è stato fatto ai nostri microfoni dal comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Filippo Micillo. Sentiamo. Dottor Micillo, nonostante le previsioni avverse, nel ponente Ligure continua a esserci il sole, per carità, dato positivo, ma se parliamo di incendi ci può essere qualche preoccupazione in più. È già stato un brutto periodo, quello degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Adesso state rafforzando i controlli sul territorio. Sì, diciamo che l'estate sta continuando ad essere una gran bella estate e questo comporta dei problemi per quanto riguarda gli incendi boschivi. Gli allerta meteo, le livelli di attenzione purtroppo non hanno interessato la nostra provincia, che continua ad avere tre mesi di siccità completa. Quindi questo fa sì che tutti i combustibili vegetali siano particolarmente suscettibili a prendere fuoco e quindi a causare degli incendi di più ampie dimensioni. Ecco, ne abbiamo già visti di questi incendi di ampie dimensioni, si orare anche le case. C'è lo stato di grave pericolosità. Si rischia una multa da 2.000 euro, anche solo bruciando i cosiddetti brotti, anche una denuncia. Il problema è che forse più che la colpa di qualche d'uno c'è il dolo di qualcun altro, la volontà di accendere i fuori, di piccare incendi. Diciamo che quest'anno sono sicuramente aumentati di numero gli incendi dolosi, quindi dovuti alla mano e alla ferma volontà di qualcuno di causare danni. Sono invece in calo sicuramente gli incendi colposi, quelli dovuti a distrazione, soprattutto alla pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali. In questo senso, con le associazioni di categoria degli agricoltori, abbiamo fatto un buon lavoro prima dell'inizio dell'estate, informando, e abbiamo effettivamente riscontrato una riduzione di questa pratica e questo ha comportato una riduzione di questa causa, dell'entità di questa causa degli incendi. Quindi noi ringraziamo gli agricoltori, ringraziamo le associazioni di categoria, ricordiamo che è ancora in vigore lo stato di grave pericolosità, quindi non si può assolutamente bruciare niente, perché ancora sussiste un grave pericolo. Nel momento in cui si potrà ritornare a una situazione di maggiore tranquillità, saremo i primi ad avvertire i cittadini della possibilità di riprendere questa pratica. Dottor Micino, ancora una considerazione, rimane alto lo stato di allerta, rimane alta la vigilanza, anche le pattuglie di prevenzione, volontari imperiesi della provincia d'Imperia, volontari lombardi, corpo forestale, resterete sul territorio ancora per un po' a livello di alta tensione? Sì, assolutamente non è il caso di abbassare la guardia, anche se siamo a settembre, anzi, fino a che non ci saranno delle piogge consistenti, il dispositivo rimarrà attivo, un dispositivo che è rinforzato anche da dei volontari che sono venuti a darci una mano dalla Lombardia e poi non dimentichiamo anche l'importante contributo dei Vigili del Fuoco. Il sistema sta lavorando molto bene, nonostante sia una stagione molto impegnativa e vede una grande collaborazione tra tutti i soggetti che sono coinvolti nel sistema antincendio della provincia. È stato approvato ieri sera dal Consiglio Comunale d'Imperia il bilancio di previsione 2015. La votazione a maggioranza è arrivata alla terza seduta a consigliare sulla pratica e dopo esposti dell'opposizione al Prefetto e alla Corte dei Conti. Il punto sul quadro economico comunale con l'assessore alle finanze Guido Abbo. Assessore Abbo, finalmente bilancio di previsione approvato ieri sera. Quali sono gli elementi salienti? Che cosa si sente di dire ai nostri concittadini riguardo a questo documento economico? Dunque, bilancio molto difficile, situazione molto difficile, pochi soldi, tanti problemi. Le buone notizie sono che siamo riusciti a non aumentare la Tari grazie alla risoluzione del contratto contra Deco. Ci siamo messi in tasca un milione e mezzo di penali che abbiamo applicato negli anni alla società che a questo punto sono incontestate e possiamo utilizzare, abbiamo già utilizzato e abbiamo anche un tesoretto per l'anno prossimo. Quindi non aumenta la Tari anche se abbiamo aumentato il costo del conferimento in discarica. non avendo l'8.6 dobbiamo portare i rifiuti fuori provincia, costa tanto ma non va a cadere sulle spalle dei cittadini. Quindi quantomeno questa è la migliore notizia. Altrimenti avremmo dovuto pagare anche quello ovviamente. Altrimenti avremmo dovuto aumentare la Tari come hanno aumentato quasi tutti. Perché conferire fuori regione vuol dire pagare di più. Vuol dire pagare di più. Quasi tutti i comuni dei dintorni hanno aumentato la Tari perché per pagare... Ci ha salvato la penale. Ci ha salvato la penale. Quindi questa è una buona notizia. Abbiamo qualche quattrino da mettere sulle manutenzioni. Pochi perché abbiamo pochi soldi e tante spese. Abbiamo un depuratore sulle spalle che una volta non c'era. E quindi tutta una serie di costi aggiuntivi. Però qualche soldino sulle manutenzioni lo troviamo. C'è qualche... Per fortuna stiamo incassando un po' meglio del previsto sulle oneri di urbanizzazione. Quindi c'è un po' di risveglia. Questa è una doppia buona notizia. Una buona notizia per il comune che è in cassa. Una buona notizia perché evidentemente vuol dire che le imprese un pochino lavorano. Di edilizia un pochino si muove. E tutti quei soldi lì sono soldi che verranno spesi sul territorio. Già oggi abbiamo 170 mila euro in più rispetto a quelle che erano le previsioni per tutto l'anno. Quindi direi che di qui a fine anno altri 4 mesi qualche altro centinaia di miliardi di euro entrerà. Per cui qualche manutenzione, qualche asfalto, qualcosina riusciamo a fare. Queste sono le buone notizie. Allora i problemi se aumentano queste entrate e anche un po' di entrata corrente cresce. Come mai non ci sono mai i soldi? Che succede? Il governo si prende più soldi? L'entrata corrente non cresce più nel senso che l'anno scorso abbiamo aumentato l'Imu per compensare il taglio. Abbiamo aumentato l'Imu e inserito la Tasi per compensare parzialmente i tagli che ci hanno stati fatti sui trasferimenti erariali. Quest'anno ci hanno tagliato un altro milione e cento. In più rispetto all'anno scorso. In totale alla fine abbiamo perso quasi 2 milioni. Quindi abbiamo rischiato il fondo del barile e siamo lì con le unghie a cercare le quattrine negli angoli. Quindi l'unico versante oggi è la spesa, non l'entrata. Sulle entrate non abbiamo margini. Sulla spesa cerchiamo di spendere meno, di spendere meglio, di usare le risorse umane interne al comune. Ecco ma le cattive notizie sono allora che possiamo scordarci. Mega concerti, iniziative, manifestazioni, spettacoli. Su tutto il turismo ricordo, discorsi che ho già fatto, un po' di anni fa sulla cultura solo dal Casino di Sanremo arrivavano 400 mila euro all'anno di fondi turistici che venivano impiegati sulla cultura. Oggi Casino zero, altre risorse, anche tutte regione, contributi di vario genere, le fondazioni bancarie, tutti i contributi che arrivavano sono sempre più scarsi e il comune ha poche risorse. Qui andiamo a mettere qualche soldo quando li troviamo proprio, ripeto, andando a cercare con il lanternino, è molto difficile. Diciamo che un po' di cultura, un po' di manifestazioni si fanno un po' con la fantasia e si fanno grazie, viva Dio, al contributo di tutte le associazioni, perché c'è molta gente che si dà da fare. Quindi non tanto per merito del comune, ma per merito della comunità. Ecco, vorrei forse... il comune siamo noi, quindi la comunità siamo noi allo stesso modo. Per cui tutti coloro che hanno passione nella musica possono farlo, anche senza i nostri soldi. Grazie Assessore Abbo e torniamo a parlare con l'Assessore Abbo, ma anche con il consigliere d'opposizione Alessandro Casano. Domani sera alle 21, microfono aperto di bilancio di società, di problemi di Imperia, insomma di argomenti che interessano la città a capoluogo. Domani alle 21, Imperia TV, microfono aperto. E' un bilancio preventivo tardivo ad un anno quasi finito e che non individua risorse sulla manutenzione della città. E' stata la replica di Piera Poilucci, capogruppo di Forza Italia. Secondo l'esponente d'opposizione, il rifacimento degli asfalti, già scarso. Lo scorso anno, quest'anno sarà ancora peggio perché vi sono stati destinati ancora meno fondi, da 480 mila euro a 360 mila. Critiche anche sulla decisione di vendere le azioni dell'autostrada dei Fiori, che contribuirebbe al depauperamento del patrimonio comunale. Ieri sera sui banchi del Consiglio Comunale di Imperia è tornata la questione del futuro dell'assonautica e del raduno delle vele d'epoca. A riaprire la discussione è stata un'interrogazione presentata da Alessandro Casano di Fratelli d'Italia. Sentiamo. Il Consigliere d'opposizione Alessandro Casano di Fratelli d'Italia ieri sera ha riportato all'attenzione del Consiglio Comunale di Imperia la questione del futuro di assonautica e del raduno di vele d'epoca. Il Sindaco Carlo Capaci ha ribadito la ferma volontà del Comune di mantenere l'importante evento nel capoluogo. Capaci ha anche ribadito l'impossibilità di accontentare le richieste di assonautica circa la gestione di Callata Anselmi, in quanto per un simile affidamento è necessaria una gara di appalto. Parole che non hanno per nulla soddisfatto la direttrice di assonautica Karin Boriani, che ha evidenziato che dovrebbero essi rilegali ad esprimersi in merita la possibilità di rilascio di una concessione demaniale alla società organizzatrice del raduno. La Boriani ha poi citato il parire di alcuni avvocati specializzati in pratiche demaniali, che affermano come vi sia la possibilità di scorporare le concessioni, come del resto già avvenuto per la gestione del porte. Ha ricordato le difficoltà operative che sorgerebbero nel caso in cui il raduno dalle vele d'epoca dovesse essere organizzato sotto il controllo della Go Imperia, che in quanto società pubblica dovrebbe affrontare ogni passaggio attraverso gare di appalto, che porrebbero grossi freni all'organizzazione dell'evento. E sempre in occasione del Consiglio Comunale d'Imperia di ieri sera, in aula, era presente anche una delegazione di abitanti di Poggi, preoccupata che l'ex asilo Fondazione Saglietto possa essere impiegato per ospitare dei migranti. L'amministrazione comunale ha però spiegato che l'edificio, ora in fase di ristrutturazione, servirà per ospitare donne anziane italiane bisognose da collocare nell'unità principale, ragazze e madri anche straniere in stato di difficoltà da collocare invece nell'alloggio adiacente, e ancora persone italiane in disagio economico destinate all'unità secondaria. Cambiamo argomento, Lucio Sardi, segretario provinciale imperiese di Sinistra Ecologia e Libertà, Roberta Bavassano in quota al PD e Roberto Balbo legato a Imperia Cambia, sono i tre nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Go Imperia, che vanno quindi a sostituire l'amministratore unico Vincenzo Costantini. Balbo sarà il presidente, la Bavassano il vice e Sardi consigliere. Costantini invece ricoprirà in seguito l'incarico di direttore del porto turistico. Oggi l'ufficializzazione da parte del sindaco Carlo Capacci in comune. Sentiamo. Signor Sindaco, come si è giunti a questa soluzione? La soluzione era che avevamo già stabilito e già anche detto in Consiglio Comunale che la Go Imperia necessitasse di un Consiglio di Amministrazione anche per dare rappresentanza alle minoranze nel CDA. La norma Madia ha impedito la conferma del generale Costantini in quanto sarebbe potuto stare in carica solo un anno, avremmo dovuto poi rifare il CDA quindi a metà di un lavoro ci saremmo dovuti fermare, aspettare, colpe alle nomine e quindi era troppo, diciamo, tatticamente rischioso. Lui che è militare ha capito perfettamente che era un problema di strategia e infatti ha, diciamo, pur a malincuore perché ho visto che è dispiaciuto però purtroppo l'anno è quella, lui si rende conto di questa cosa e quindi così è. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da tre professionisti, persone giovani dottor Roberto Balbo, dottoressa Roberta Bavassano e dottor Lucio Sardi. Il loro compito sarà quello di traguardare la Go Imperia a finalizzare l'acquisto del ramo d'azienda dal falimento della porta di Imperia Spa e ad avere quindi restituita la città e il porto. Lei comunque ha auspicato un coinvolgimento in qualche maniera del generale Costantini. Sì, è un'indicazione che ho dato al CDA essendo che lui ha passato un anno e mezzo ad amministrare la Go Imperia a conoscere le cose, poi ha conoscenze anche al di fuori della città di Imperia perché ricordo che lui è stato comandante provinciale dei Carabinieri qua in provincia ha girato il mondo, ha fatto tante cose, conosce tante persone ha passato un anno e mezzo lì, conosce tutta la storia conosce anche le viti e i bulloni di dove sono i problemi e quindi mi sembra giusto un suo coinvolgimento, adesso non so ancora in quale forma anche per dare una continuità e un supporto al nuovo CDA in questo gravoso compito. Presidente dunque, con quale spirito si inizia questa avventura? Come dicevo prima in conferenza stampa ringrazio il Sindaco per questa nomina che comunque è un incarico prestigioso, impegnativo e che spero si potrà portare avanti con due persone, colleghi del Consiglio di Amministrazione che sono due professionisti, due vari professionisti con i quali ci conosciamo e che penso riusciranno a fare, con cui riusciremo a fare una squadra che possa collaborare per proseguire il lavoro proficuo e soddisfacente che ha portato avanti il generale Costantini come amministratore unico in questo anno di esercizio della sua attività e che ci possa consentire di risolvere pian piano i problemi che questa società ha e di attuare le iniziative che il generale Costantini ha iniziato per portarle a compimento. Subito al lavoro perché gli impegni sono impellenti. Sicuramente sì, sono impellenti, sono tanti e quindi ci dovremmo mettere immediatamente al lavoro per cercare di risolvere i problemi e di esaminare le situazioni. Però inizialmente dovremmo fare un po' mente locale per verificare quali sono i modi di agire. Avete sottolineato lo spirito di squadra su cui volete basare il vostro mandato? Diciamo che ci conosciamo già a livello professionale perché magari ci è già capitato di collaborare e sono sicura di riuscire a fare un bel lavoro di squadra. Io caratterialmente sono abbastanza portata per il lavoro di squadra. Mi piace confrontarmi, comunque sentire le opinioni degli altri e penso che anche i miei due colleghi siano intenzionati a fare un lavoro del genere. Un impegno importante anche perché sul porto si basa il futuro di impegni. Certo, certo, una grande sfida. Nominato in capo alla rappresentanza dell'opposizione ma ha sottolineato Lucio Sardi l'aspetto tecnico e non politico. Beh, certamente. Sono componente di un consiglio di amministrazione, di una società e conseguentemente questo è il mio compito, non è un ruolo politico anche se rappresento una garanzia magari in più per alcune componenti che mi hanno indicato, che ringrazio oltre al sindaco ovviamente. Sono motivato a svolgere questo ruolo perché penso che questa società ha un compito importante che è quello di riportare il porto alla città d'imperia e quindi superare quella fase, definitivamente quella fase del passato in cui questa vicenda del porto aveva creato molti problemi aveva tolto opportunità e possibilità alla nostra città ritornare, avere la possibilità di incidere sul fatto che il porto d'imperia torni alla città d'imperia per me è molto importante sia dal punto di vista del ruolo tecnico che svolgo ma anche come cittadino prima di tutto perché spero di riuscire in questo modo, con questo ruolo a svolgere una funzione utile alla città. Ieri sera a Savona la polizia ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa. Nel corso del servizio sono state identificate 36 persone controllate diverse autovetture e alcuni esercizi pubblici. Tra le persone identificate ad un 21enne di origine albanese risultato non in regola con le norme sul soggiorno è stato notificato un provvedimento di respingimento di rinnovo della carta di soggiorno. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni. E ad Imperia la polizia ha invece denunciato un pluripregiudicato trovato in possesso di due scooter rubati e diverse armi tra cui una granata. Indagini in corso sui possibili collegamenti con una serie di rapine commesse in passato. Sentiamo. La squadra mobile della Questura d'Imperia nell'ambito dell'attività investigativa relativa ad alcune rapine commesse sul territorio della provincia ha denunciato un cinquantenne di Sanremo ma originario del Basso Piemonte trovato in possesso di due scooter provento di furto una granata da esercitazione di fabbricazione francese alcuni proiettili, numerose spade e sciabole tra le quali una katana detenute abusivamente nonché materiale vario verosimilmente destinato alla commissione di rapine. I due motocicli sono stati rubati a Sanremo uno nel 2014 e uno pochi mesi fa e non si esclude che possano essere stati utilizzati da malviventi nel corso di recenti episodi delituosi. Nel corso dell'attività è intervenuto anche un artificiere della Questura d'Imperia che ha provveduto all'immediata messa in sicurezza della Granata, accertando quindi che si trattava di una bomba a mano che la polizia francese utilizza per le esercitazioni. Le indagini finalizzate alla sua individuazione stanno proseguendo anche con l'interessamento di organismi investigativi d'oltre Alpe. Il cinquantenne inoltre custodiva nella sua abitazione anche diversi caschi da motociclista camuffati con strisce di nastro adesivo scuro al fine di renderne difficoltosa l'individuazione. L'uomo che è privo di una stabile attività lavorativa è conosciuto dalle forze dell'ordine per il suo rilevante spessore criminale. Per i suoi trascorsi giudiziari anche con precedenti specifici in materia di armi in passato è stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina al polo universitario d'Imperia. L'esplosione della condotta di un idrante ha infatti causato l'allagamento del piano antistante l'aulamagno del polo imperiese. Per fortuna i danni sono risultati limitati e la situazione si è risolta in poco tempo. Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia d'Imperia hanno arrestato un 38enne italiano ritenuto responsabile di numerosi furti commessi ai danni di auto, esercizi commerciali e luoghi pubblici nelle province di Imperia e Savona. I militari hanno anche recuperato un ingente bottino di refurtiva restituita poi ai legittimi proprietari. L'arresto è scattato dopo oltre un mese di indagini. Bene, ora facciamo una piccola pausa ci rivediamo tra poco con la seconda parte del telegiornale. Grazie a tutti. Seconda parte del telegiornale che apriamo con la cronaca. Sesto passeur arrestato nell'arco di 15 giorni dalla polizia di frontiera di Ventimiglia. L'ultimo arresto in ordine di tempo è scattato ieri sera quando i poliziotti dopo un inseguimento terminato a Mentone hanno bloccato un romano di 32 anni che a bordo del suo furgone stava cercando di far entrare in Francia dietro compenso 30 clandestini stipati sul mezzo in condizioni disumane. L'italiano è stato arrestato per i reati di tratta di esseri umani favoreggiamento dell'immigrazione clandestina violenza e resistenza a pubblico ufficiale favoreggiamento personale nonché danneggiamento. Immediatamente processato in Francia è stato condannato a tre anni di reclusione e a dieci anni di interdizione da quel territorio. I clandestini riammessi nel territorio italiano sono stati affidati alle cure della Croce Rossa di Ventimiglia. Il comune di Ormea nel vicino Piemonte è balzato agli onori delle cronache nazionali per l'iniziativa di alcuni cittadini di affittare le stanze vuote di un albergo del centro e impedire in questo modo che venissero occupate dai migranti. Il sindaco Giorgio Ferraris in collegamento telefonico con la nostra redazione ha però spiegato che il paese non è contrario all'accoglienza. Sentiamo. Signor sindaco allora a Ormea i cittadini fanno fronte comune per la paura dei migranti affittano addirittura un intero albergo che sta succedendo? Diciamo che fanno fronte comune per tenere un albergo aperto. L'albergo dell'Olmo si trova sulla piazza e noi in questo momento stiamo perseguendo un progetto anche di rilancio turistico di Ormea che venga destinato ad ospitare migranti o che venga chiuso è una cosa che non va bene. Quindi c'è un'iniziativa da parte di alcuni operatori per tentare di dare una gestione continuativa all'albergo. Non è contro i migranti è contro questa collocazione. Io ritengo anche personalmente questa collocazione non adeguata è un albergo che si trova al primo piano di un condominio di 70 alloggi non ha spazi comuni anche per ospitare questi profughi sarebbe sicuramente inadatto. Tant'è che io ho detto alla prefettura ho proposto se volete avete da collocare dei richiedenti asile ritenete che Ormea sia un posto dove devono venire noi offriamo in alternativa allora un'altra collocazione ma non quella che riteniamo sbagliata. La prefettura che cosa vi ha risposto avete dei contatti costanti immagino Sì abbiamo dei contatti costanti la prefettura mi è sembrata disponibile ad accogliere il nostro progetto anche perché noi a questo punto vorremmo un progetto gestito tramite lente pubblico che quindi non sia solo mirato ad un puro interesse economico come legittimamente può avere il privato così ma abbia sia accompagnato anche da un progetto positivo di integrazione nei limiti di quello che la norma in queste situazioni consente ecco sindaco ma qual è la vostra controproposta dove li ospitereste i richiedenti asilo diciamo che l'amministrazione potrebbe offrire come locale adeguato diciamo per ospitare questi migranti richiedenti asilo i locali della casa di riposo che è stata trasferita tre anni fa i locali sono completamente attrezzati si trovano comunque in centro non c'è nessuna volontà di isolamento cose di questo genere ecco quante persone potreste ospitare sindaco lo stesso numero il proprietario dell'albergo dell'olmo aveva offerto 30 36 posti la casa di riposo aveva 45 ospiti quindi sostanzialmente si tratta degli stessi numeri semplicemente è una collocazione più adeguata non all'interno di un condominio e anche con spazi comuni per un gruppo di queste dimensioni sicuramente migliori gli agenti del commissariato di Sanremo hanno identificato quattro persone responsabili di due risse avvenute ieri sera tra Piazza Colombo e Corso Garibaldi nel pieno centro della città dei fiori il primo episodio è stato chiarito essere una lite tra due uomini per motivi sentimentali per fortuna conclusa senza particolari conseguenze in Corso Garibaldi invece un tunisino pluri pregiudicato più volte già arrestato dalla polizia stava rientrando dal commissariato dove ha l'obbligo di firma quando è stato aggredito da due connazionali uno dei quali già identificato gli agenti stanno ora cercando di ritrovare anche l'altro responsabile cambiamo decisamente argomento in occasione dell'expo della Valle Roscia da domani a domenica fra gli eventi collaterali torna anche il giro gusto si tratta di un'iniziativa di Confcommercio CIA Promi Imperia e Camera di Commercio sentiamo anche quest'anno l'Expo di Pieve torna Giro Gusto in valle una piacevole e gustosa iniziativa di Confcommercio non solo beh indubbiamente come negli anni scorsi riproponiamo questo giro gusto nelle valli limitrofe a Pieve di Teco proprio perché i ristoratori che fanno parte del circuito che quest'anno sono ben 18 possano proporre ognuno le proprie ricette e valorizzare sempre di più i prodotti locali quindi un giro gusto fra i gusti i sapori le ricette di una volta che coinvolgerà un po' ristoranti agriturismo bed and breakfast trattorie tutti coloro che aderiranno certamente anche quest'anno riproponiamo anche l'applicazione di Confommercio restaurant booking tramite il QR code o direttamente sul sito restaurant booking si potranno visitare le schede dei ristoranti fare le presentazioni vedere i menu e anche notizie curiose su tutti i prodotti i prodotti locali insomma un motivo in più per visitare l'Expo della Marra Rocha sicuramente anche quest'anno speriamo che gli ospiti siano numerosi i ristoratori e tutte le aziende locali saranno pronte ad ospitare ad offrire i loro prodotti per valorizzare questo territorio e questa vallata che è sicuramente molto interessante da visitare indubbiamente la provincia di Imperia ha deciso di cedere il 60% delle quote del centro provinciale di formazione professionale pastore SRL per questo è stata indetta un'asta pubblica con un'offerta minima di oltre 86 mila euro le restanti quote sono di proprietà della Camera di Commercio d'Imperia del Casino di Sanremo e della Spui la società di promozione per l'università nell'imperiese in Liguria si è registrato un caldo affoso da record soprattutto nel mese di luglio ma le estati con temperature estreme sono destinate a diventare la normalità lo dicono i tecnici dell'ARPAL che hanno tratto il bilancio meteo degli ultimi mesi estati estreme come quelle passate che attualmente sono ancora considerate eventi estremi in un prossimo futuro non rimarranno eventi isolati ma viceversa potranno divenire sempre più ricorrenti lo dicono gli esperti meteo dell'ARPAL che hanno anche analizzato il quadro meteorologico degli ultimi mesi in Liguria dopo il luglio più caldo dal 1800 anche il mese di agosto è stato all'insegna della canicola nonostante il calo termico della seconda parte infatti si è avuto un elevato numero di notti tropicali con temperatura minima superiore ai 20 gradi il dato più eclatante è stato il record assoluto di temperatura per la regione Liguria pari a oltre 40 gradi misurato venerdì 7 ai 467 metri sul livello del mare di Davagna in provincia di Genova la temperatura più bassa è stata invece quella di 6,3 gradi ai 1845 metri di Poggio Fearza in provincia d'Imperia nella prima mattina di sabato 15 le precipitazioni sono cominciate intorno a ferragosto anche se il giorno più piovoso del mese è stato lunedì 24 in particolare in provincia di Spezia guardando le medie mensili si nota una regione spaccata in due più secca della media climatologica a Ponente e più bagnata sul centro Levante a Imperia e a Ventimiglia i sindaci hanno emesso delle ordinanze affinché in concomitanza con gli incontri di calcio delle due squadre cittadine intorno agli stadi non possano essere vendute bevande alcoliche da due ore prima a due ore dopo gli incontri ad Imperia è stata anche vietata la vendita di lattine e bottiglie di plastica chiuse che potrebbero essere usate come oggetti contundenti nuove segnalazioni sono giunte alla nostra redazione da parte di cittadini di Imperia che puntano il dito contro situazioni di degrado e pericolo presenti nel capoluogo alcuni residenti di Caramagna in merito hanno anche raccolto decine di firme per chiedere un intervento urgente del comune per la messa in sicurezza della strada vediamo una situazione di grave pericolo soprattutto per i pedoni come testimoniato anche da un recente incidente è quella segnalata alla nostra redazione dai numerosi abitanti della frazione imperiese di Caramagna che hanno anche raccolto decine di firme in calcio a una petizione inviata al comune per chiedere un intervento urgente di messa in sicurezza la zona incriminata è quella davanti al locale da ballo all'aperto all'ingresso del paese lato Imperia i residenti lamentano che per raggiungere i negozi presenti nella zona in questo tratto di strada non esistono marciapiedi e si è quindi costritti a camminare pericolosamente sul ciglio della strada con l'erba alta e l'assoluta mancanza di adeguata segnaletica stradale non a caso di recente si è verificato appunto un grave incidente stradale che ha visto l'investimento di una donna finita in ospedale insieme a due motociclisti per questo gli abitanti chiedono un urgente cambio di rotta all'amministrazione comunale mediante la sistemazione di un'opportuna segnaletica stradale a cominciare dalle strisce pedonali e da limiti di velocità idonei a una zona abitata alcuni abitanti hanno anche auspicato la sistemazione di dossi per costringere i veicoli a rallentare e chiesto una pulizia adeguata del ciglio stradale e delle cunette di scolo dell'acqua piovana sono numerosi gli appuntamenti che nel prossimo futuro attendono l'accademia dello stocafisso della provincia di Imperia il primo evento in collaborazione con il comitato San Giovanni avrà luogo da domani a domenica a Pieve di Teco in occasione della terza edizione dell'Expo Valle Arroscia subito dopo dal 7 settembre il presidente Sergio Lanteri sarà ospite ad Ancona dell'Accademia dello stocafisso all'Anconitana per Stocafissando 2015 il 15 settembre è invece richiesta la presenza presso la confraternita del Bacalà alla Vicentina per il Gran Galà del Bacalà 2015 dedicato all'Expo ad ottobre poi degli ospiti dell'Accademia del stocafisso portoghese di Coimbra e sabato e domenica ad Arenzano si terrà la tradizionale festa di Gesù Bambino di Praga giunta alla sua 107esima edizione due giorni di festeggiamenti con la benedizione dei bambini la suggestiva processione in mare la benedizione delle barche la veglia di preghiera tutta la notte ed un castello nel cuore spettacolo teatrale con Pamela Villoresi sentiamo sarà un fine settimana intenso e coinvolgente al santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano dove sono attesi migliaia di pellegrini provenienti da tutta Italia i festeggiamenti a cura dei frati carmelitani scalzi prenderanno il via nella mattinata di sabato con la posa della statuetta alla venerazione dei fedeli per il tradizionale bacio nel pomeriggio alle 16.15 la benedizione dei bambini sul piazzale del santuario e alle 18 la processione della statua di Gesù Bambino di Praga aperta dai tradizionali crocifissi scenderà nelle vie del paese e raggiungerà il porto di Arenzano dove la statuina di Gesù Bambino verrà imbarcata dai pescatori la suggestiva processione di barche in mare sosterà davanti al molo cittadino per la tradizionale preghiera del pescatore e la benedizione delle barche e alla città alle 22.30 la veglia di preghiera fino alle 4 del mattino successivo la festa continuerà per tutta la giornata di domenica fino alle ore 19 quando la statuetta di Gesù Bambino di Praga verrà ricollocata sul trono alle ore 21 infine nel teatro del seminario spettacolo teatrale con Pamela Villoresi dal titolo Un castello nel cuore è stato assegnato all'istituto per la floricoltura di Sanremo il premio Mario Calvino Meridiana per il Verde si tratta di un riconoscimento istituito dalla società italiana Amici dei Fiori che intende valorizzare figure professionali e amatoriali del settore florovivaistico e del giardinaggio la cerimonia di premiazione è prevista per domani a Lucca nell'ambito di Murabilia Mura in Fiore 2015 il gruppo Swing Show guidato dal musicista Freddy Colt sarà protagonista di un concerto domani sera in Piazza San Siro a Sanremo ospite speciale della serata sarà la cantante inglese Johanna Rimmer lo spettacolo in un'atmosfera in stile vecchia America avrà inizio alle ore 21 e 15 con ingresso libero bene ora spazio alla nostra consueta rubrica dell'autostrada dei Fiori e subito dopo il quadro meteo non si incontra uno cantiere sull'autostrada dei Fiori nel tratto Savona a confine di Stato per permettere una maggiore scorrevolezza al traffico dei vacanzieri che scelgono la nostra regione per le loro vacanze e al traffico consueto del fine settimana chi si mette in viaggio può avere informazioni utili attraverso i pannelli e messaggio variabile dislocati su tutto il percorso e che segnalano in tempo reale eventuali ostacoli alla circolazione ricordiamo che l'autofiori dispone di personale di pattugliamento e di pronto intervento che opera in sinergia con la polizia stradale durante tutte le 24 ore giornaliere per la gestione di ogni tipo di emergenza a chi si mette in viaggio si raccomanda comunque la massima attenzione e prudenza le previsioni di Arpal Meteoliguria indicano per domani venerdì 4 settembre al mattino ancora molte nubi alternate a parziali brevi schiarite dalle ore centrali le nubi si diraderanno rapidamente per lasciare spazio a schiarite più ampie umidità su valori medio-alti venti inizialmente deboli di direzione variabile dal pomeriggio tendenti a disporsi da sud sud-ovest in rinforzo fino a moderati mare mosso dopo domani sabato 5 settembre giornata in prevalenza soleggiata sulla costa nell'interno le iniziali condizioni di cielo nuvoloso lasceranno presto spazio a schiarite ampie nella seconda parte della giornata la discesa di un vortice di aria fredda in quota porterà un deciso aumento dell'instabilità con possibili temporali dal tardo pomeriggio umidità su valori medio-bassi venti al mattino deboli variabili in rotazione dai quadranti meridionali in rinforzo fino a forti da sud-ovest a largo in serata ingresso di forti venti da nord sulla parte centro-occidentale della regione mare mosso in aumento fino a molto mosso con onda lunga da sud-ovest la protezione civile segnala dal pomeriggio possibili temporali e con il quadro meteo termina il telegiornale di oggi grazie come sempre per il cordiale ascolto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!